Per cuore giallo-blu dal pala in Audi troviamo un amico che troviamo anche in altre situazioni, Paolo Terzolo. Ho capito poco sul ruolo centrale della sua posizione perché sappiamo che lui c'entra al 100% ma glielo facciamo dire a lui. Innanzitutto benvenuto Paolo e iniziamo questa avventura con la pala canestro femminile, la squadra si chiama Pala Canestro Torino e vincente questa sera contro Carugate 72-64, il campionato è iniziato bene. Il mio ruolo è quello standard, è un tifoso che ogni tanto dà una mano e quindi adesso do anche una mano alla pala canestro Torino che alla fine della scorsa stagione è stata comprata da noi, da PMS Basketball e quindi è entrata a far parte del nostro circuito. Direi che quest'anno, un po' forti della stagione fatta dall'anno scorso, che anche loro sono arrivati a una partita dalla Serie A, abbiamo aumentato un po' il roster anche a livello qualitativo inserendo un playmaker americano e una mezzalunga di talento come la Riccardi e a questo punto ci troviamo ad aver fatto le prime tre partite della stagione e aver portato a casa tre vittorie. Continuiamo a sviluppare anche tutto quello che è l'attività del settore giovanile, anche col marchio Libertas Moncalieri che invece è stata una società che abbiamo acquistato 5-6 anni fa e di conseguenza vogliamo diventare una realtà significativa per il Piemonte e anche nel femminile. Faccio vedere che ho studiato. Delle prime tre vittorie di Torino lo possiamo dire, c'è una prestigiosa a Stradella contro Broni, considerata una delle quattro squadre forse più forti del campionato insieme a Genova e Sesto San Giovanni. Sì, sicuramente il nostro girone è quello più competitivo, essendo solo quattro le squadre che passeranno al secondo turno è chiaro che ce la dobbiamo giocare. Broni è sicuramente una gran bella squadra, come una gran bella squadra Sesto San Giovanni, come del resto è un'ottima squadra anche Genova. Speriamo di dire la nostra fino alla fine del girone di andata o perlomeno di questa prima fase per poi tentare di fare un secondo girone con la possibilità di fare qualcosa di più. Nell'attesa che Paolo Terzolo diventi un amico e un tifoso anche della 5 pari, che è di amici che da una mano ne abbiamo bisogno con Paolo possiamo spaziare veramente di mille argomenti, uno super attuale perché c'è la prima vittoria della Serie C dove anche Paolo lì dà una mano ogni tanto, una bella vittoria all'Oano. Ci vuoi raccontare qualcosa perché è freschissima? Dunque, della vittoria del gioco vi dico che so poco. Ho comunque sentito Bausano che mi ha detto che c'è stato un Giorgio di Buonaventura che ha fatto una partita strepitosa e poi i tre del circuito e del giro della 2 che sono Vangelov, Picchi e Mascolo hanno anche fatto loro una signora gara. E sono contento perché la prima volta che la C1 dopo quattro partite riesce a portare a casa un risultato positivo direi che questo è un campionato che non abbiamo fatto con l'ambizione di andare nei play-off o tantomeno vincere. È un campionato che stiamo facendo perché vogliamo far crescere ai nostri giovani e fargli affrontare dei campionati senior nella speranza che questo gli possa servire per portare avanti un campionato under-19 nazionale che speriamo ci porti alle finali nazionali. Squadra completamente fatta di giovani, il più vecchio credo fuori quota è a Resfiore, se non credo che è il 94. Quindi sicuramente la bontà del progetto è evidente ed è anche consolidata da questa prima vittoria. Continuiamo a spaziare, siamo a sabato sera, domenica forse la PMS Manita al Torino gioca, scende in campo a Casal Pusterlengo, diciamo forse per i noti casi di problemi del palchetto diciamo dell'impianto di Casal P. Ci puoi dire qualcosa? Abbiamo avuto qualche notizia di straforo si parla di un Mancinelli non in perfette condizioni, di un Fantoni forse recuperato, un Viglianisi ancora in box insomma c'è sempre qualcosina da mettere a posto. Vi dico che Mancinelli non farà parte degli undici che andranno a Codogno a giocarsi la partita contro Casal Pusterlengo dico invece che Fantoni e Viglianisi sono recuperati al 90% e scenderanno in campo. Direi che il nostro roster che ha dimostrato nella fase precampionato ottima qualità e ottimo risultato ha fatto questi due scivoloni, una biella e una trappani ma ci sta, sono due trasferte, sono due momenti particolari. Io continuo a essere fiducioso e sono convinto che domani tutti i ragazzi e i tecnici faranno il possibile per portare a casa il primo risultato utile. Ovviamente noi ci accodiamo a questo ottimismo, penso che se tu sei il primo tifoso io sono il secondo quindi direi che l'alchimia ce l'abbiamo bene. Quindi ringraziamo Paolo di questa ghiacchierata veramente a 360 gradi, lo rivedremo di fronte ai nostri microfoni di Cuore Giallo Blu su 100 argomenti Paolo. Assolutamente sì, sempre disponibile. Grazie mille, ciao. Ciao. Grazie.